70 anni, beh io ne ho coperti parecchi di questi 70 anni, ovviamente quelli prima di me sono storici veramente, 70 anni, anzi dico 70 anni quelli registrati, cioè quelli ufficiali, ma in realtà gli amici della musica esistono in forma occasionale, non continuativa fin dagli anni 30, che io ricordi, di fatti conserviamo un tacquino del professore Limuli, che è il fondatore degli amici della musica, dove vengono registrati concerti eccezionali, straordinari, c'è stato Rubinstein, Brailovski, esecutori, grandissimi interpreti. Gli amici della musica di Trapani, per festeggiare l'anniversario, hanno realizzato anche quest'anno, nonostante l'emergenza sanitaria Covid-19, un programma pomeridiano, con inizio alle 18.30, che si svolgerà negli spazi della Chiesa Sant'Alberto in via Garibaldi a Trapani. Si inizia domenica 25 ottobre con il concerto di Davide Alogna e Costantino Catena, violino e pianoforte, Musiche di Ludwig van Beethoven e del Mann Wolf Ferrari. Noi abbiamo operato tutte le cautele che sono prescritte dalla legge in questi giorni, quindi abbiamo distanziato le sedie e abbiamo sanificato la Chiesa di Sant'Alberto. Quindi ci sono tutti i presupposti perché si possa venire a vedere questi quattro concerti della prima parte della stagione concertistica 2020-2021.